Vi ricordate di Suor Cristina? Una delle suore orsoline che incantò il pubblico di The Voice of Italy nel 2014 con la sua splendida voce. Ma l'avete mai vista a 20 anni? Era una ragazza davvero bellissima. Sembra un'altra persona, vediamola. Suor Cristina, con la sua voce lasciò a bocca aperta i giudici e il pubblico di The Voice Italia nel 2014. Ma l'avete mai vista prima della sua vocazione cristiana? Non ci crederete mai, ma vedendo le foto del passato è irriconoscibile. Nell'immagini dove la vediamo giovanissima, sembra un'altra persona, l'incredibile differenza si nota. La sua è una trasformazione davvero clamorosa, vediamo all'età di 20 anni, farete fatica a riconoscerla. Chi è Suor Cristina? Dalla sua passione per il canto alla fede Cristina Scuccia, conosciuta come Suor Cristina, è sempre stata una donna con la passione per il canto. In età adulta, ha deciso di entrare all'ordine delle suore orsoline della Sacra Famiglia. Ma nel 2014, ha partecipato al noto talent musicale The Voice of Italy, dove conquistò l'intero pubblico con la sua incredibile voce. La sua bravura lasciò il segno, infatti, le sue esibizioni sono state le più belle di tutta l'edizione. Grazie al suo talento, è riuscita a portarsi a casa la vittoria e ad ottenere un contratto discografico con Universal. Ma dopo aver l'incredibile successo, Suor Cristina è completamente sparita dai riflettori, la sua ultima comparsa nel piccolo schermo risale al 2019 nel programma di Millie Carlucci, ballando con le stelle. I telespettatori, però, non si sono dimenticati di lei. In tantissimi si chiedono che fine abbia fatto e sono ancora curiosi di scoprire di più sulla sua vita privata. Ad esempio, l'avete mai vista da giovanissima? Una trasformazione davvero sconvolgente, vediamola. Suor Cristina, la clamorosa trasformazione purtroppo, Suor Cristina ha deciso di abbandonare definitivamente il palcoscenico, per dedicarsi solamente alla fede. In un'intervista ha dichiarato di essersi sposata definitivamente con Cristo, una scelta dolorosa per i suoi fan che ancora oggi sperano di rivederla cantare sul palco. Ma l'avete mai vista da giovanissima? Sul web circolano diverse foto del suo passato e possiamo notare l'incredibile cambiamento. Da ragazza preferiva dei look ovviamente molto giovanili e glamour. Anche l'acconciatura è totalmente diversa rispetto a quella di adesso. Ma una cosa è certa, il suo dolce sguardo e la sua bellezza sono rimasti gli stessi.